Ciao da IMAX, oggi sono qui per presentarvi in anteprima esclusiva la nuova Stencil Machine Brother PJ863. Quali sono le migliorie rispetto al modello precedente? Sicuramente la più importante è che ora la PJ863 include il modulo MFI, che permette di stampare wireless via Bluetooth da entrambi i sistemi operativi iOS e Android. Ovviamente tramite il cavo USB si può stampare tramite PC e Mac. Perché preferiamo la versione Bluetooth a quella Wi-Fi nel mondo dei tattoo? Perché stampa direttamente senza passare attraverso un'infrastruttura di rete, che renderebbe il tutto più macchinoso. Se si è in una tattoo convention, ad esempio, e si vuole stampare, non è necessario connettersi alla rete Wi-Fi. La nuova Brother PJ863 è più veloce delle precedenti e attivando la funzione Stencil Mode diventa una vera e propria Stencil Machine. Presto potrete trovare sul nostro sito web anche un video tutorial su come settare al meglio la Stencil Machine. Potete acquistarla sul nostro sito web www.imaxshop.com oppure qui presso il nostro shop a Rizzone. Grazie per l'attenzione e ad un prossimo video!